Buon Natale allo sport che sotto l'albero si prende una giusta pausa di riflessione, un sano e confortevole riposo in famiglia. Buon Natale alla Lucchese che ha chiuso il girone di andata al secondo posto. Peccato perché poteva festeggiare col primato e il titolo di campione d'inverno. Sarà importante ripartire subito e credere che l'obiettivo della promozione è difficile ma possibile. La Correggese è lontana, si fa per dire solo due punti. Quindi... Buon Natale al Diareggio, reattiva la riscossa, tre vittorie nelle ultime cinque giornate con nove punti in saccoccia, più di quanti ne avesse incamerati nei primi tre mesi di campionato. Vero che in Lega Pro non c'è rischio retrocessione ma la squadra del presidente Dinelli vuol scalare la classifica e può farlo con un igli vannucchi in più nel motore. Buon Natale all'arcantea pallacanestro Lucca, tornata dalla Puglia con una bruciante sconfitta che però non inficia quanto di buono e non è poco, fatto sinora dalla squadra di coach Meccacci. Il giovane tecnico ha saputo prendere per mano la squadra che peraltro già conosceva raccogliendo la pesante eredità di Roberto Russo. Buon Natale in tema di basket anche al Gesam Gassale Mura, sfortunato ma ugualmente competitivo. Sfortunato perché il grave infortunio corso a Gillian Robbins è stato una vera e propria ammazzata. L'arrivo imminente di Whitney Jones servirà a completare la rosa ma non le restituirà tutto il potenziale. Competitiva però la squadra di Mirko Diamanti, il terzo posto a due soli punti da Raguse e Schio, la dice lunga. Buon Natale anche a Locke e alle più che mai rivali Forte De Marmi e Cigici Viareggio, allargati anche alla neopromossa SPV Viareggio. La lotta per lo scudetto le vede protagoniste come mai successo prima e forse anche per questo le polemiche anche accese hanno condito le cronache degli ultimi giorni. Speriamo che tra le due litiganti non goda la terza, il Valdagno. Buon Natale all'atletica Virtus Lucca che ha vissuto un 2013 a dir poco magnifico con la perla di Vicenza e la promozione, il meritato ritorno nella Serie Aoro. E Buon Natale anche a tutte le altre realtà sportive da Noi TV.